POSSO FARTI UNA DOMANDA Una relazione professionale con un'intensa attività sessuale. Forte. Puoi accendere la webcam, siamo solo noi due. Qual è la cosa più strana? La cosa più umiliante che ti è successa? Sei immatura ed egocentrica, Emily. Mi sono stancato. Mi sento ancora più di merda. Leila! Cazzo, ma tu sei fuori di testa! Ne vuoi una anche tu? No, 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 no. No? Bene. Non fare niente. Faccio tutto io. Mi sta facendo impazzire, completamente. Non penso ad altro. Che vuoi fare adesso? Sono così felice, ho voglia di urlare. Ciao! 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 Grazie per la visione!